Come è un economista ortodosso? In tanti anni nell'urtare contro il muro di gomma del luogo comunismo, nell'assistere a questa situazione orwelliana, nel capire che le persone che avevate di fronte abolivano qualsiasi elementare forma di razionalità e spesso erano persone che applicavano le leggi fondamentali dell'economia trovandosi dal droghiere con una scrupolosità al limite del sordido, da personaggio balzacchiano, ma che poi però quando si passava dal livello del resto della loro fottuta spesa al destino di questa nazione improvvisamente delegavano i propri lobby destro e sinistro del cervello a Repubblica o altre forme di disinformazioni che abbiamo ampiamente, senza nominare il Corriere della Sera, il manifesto, la stampa, il foglio, insomma tutte, tutte. E a un certo punto questa rabbia che mi sono tenuto dentro è esplosa e ho avuto la grandissima soddisfazione di scoprire di avervi insegnato che la risposta era dentro di voi ed era giusta. E anche la grandissima soddisfazione di scoprire di non essere solo. Di non essere solo non da un punto di vista dottrinale, perché da un punto di vista dottrinale io sapevo di essere in ottima compagnia, perché le riviste scientifiche sono lì, l'American Law Review è lì, gli NBR, Working Paper sono lì, chi vuole li legge, naturalmente voi no, perché non ci arrivate, non perché non siate in grado di capirli, tant'è che quando ho cercato di spiegarli, più o meno tutti li hanno capiti, a partire dalla casalinga che se n'è andata per raggiungere il livello, diciamo così, più alto di, come possiamo dire, equilibrismo intellettuale rappresentato dall'ordinario di matematica che sta qui seduto appunto. Perché alla fine le cose non sono poi così complesse. E quindi questa è stata un'esperienza veramente molto bella e sono veramente molto commosso di incontrarvi qui. Il motivo però del successo di questa esperienza, sul quale adesso mi vogliono anche intervistare, per fare che io sia molto bravo con i social media, è un motivo che in realtà ci rimanda ai grandi classici, dei quali adesso parleremo, perché ci siamo divertiti, anche perché ci siamo accorti che leggiamo gli stessi libri e chi non li legge sa far finta con molta dignità di averli letti e per questo gliene siamo grati. Voi sapete che, insomma, Verlaine era un sadico e lo dimostra nella sua frase L'arte è essere assolutamente se stessi. Se pensate che questa frase è rivolta a dei giovani, cioè a delle persone con una personalità e informazione che quindi non hanno assolutamente alcun modo di sapere chi siano i famosi loro stessi, questa frase è incredibilmente sadica. Però funziona. Io ho cercato, sapendo di non avere nulla da perdere, nulla da guadagnare, di essere me stesso e quindi di non parlare a tutti, perché questo avrebbe comportato fare il politico, che non è me stesso, non è io assolutamente, e avrebbe comportato parlare per slogan, cioè non dire niente. Ho detto qualcosa a qualcuno e ci sono molti qualcuni, mi sembra di capire, tant'è vero che il blog ha fatto due milioni di contatti in un anno, adesso ha 1050 lettori fissi e questa cosa ha funzionato. Allora, forse la prima cosa da capire è che nel cercare questa famosa unione della quale si parlava, la prima cosa da non fare è provare a parlare a tutti. Parliamo a qualcuno, parliamo a chi ci può capire, risparmiamoci, diciamo così, di rimbalzare contro il muro di gomma del pittino di turno, perché insomma la differenza, basta fare come i mosconi che sbattono contro il retro, a un certo punto fermiamoci e troviamo chi sono quelli che ci possono stare a sentire. Questo è uno dei motivi per i quali questo testo non è maturato in una enorme sinergia con il mondo accademico. Io avrei anche voluto, diciamo così, esplicitarlo nel testo, ma ci ho rinunciato, perché quello che mi mancava nei miei colleghi, soprattutto nei fognatori con la F, che come sapete non è un errore di stampa, ma è un errore di pronuncia, è un errore politico, quello che mi mancava in questa gente era la volontà di affrontare la dimensione politica del problema, cioè l'economista standard di sinistra, non so se ce n'è uno qua dentro, se c'è si nasconda per favore, non ha intenzione di entrare nella dimensione politica che il supporto che la sinistra italiana ha dato a questo progetto crea e per forza si tratterebbe di parlare ricorda a casa dell'impiccato, ma tanto prima o poi bisognerà farlo, perché se non decidiamo di farlo noi ci sarà la storia con la doppia S maiuscola a costringerci a fare i conti in casa, a fare un minimo di autocritica, e quindi questo libro nasce in assoluta e totale isolamento dalla riflessione dei miei colleghi, questo costituisce poi un limite, sicuramente, si sarebbe potuto fare di più. Devo dire che anche le presentazioni in ambito accademico sto cercando di evitarle sulla base di alcune esperienze che ho fatto, adesso voi penserete che diciamo me la credo molto e effettivamente è così, non si riesce a nasconderlo, ma voi immaginate Vidante che presenta la Divina Commedia a Firenze e gli dicono, beh senti io il libro non l'ho letto, però sono contrario all'inferno perché secondo me fa troppo caldo, ecco questo è il tipo di riflessioni che mi sono sentito esternare dai miei colleghi e che diciamo Ego della Rete ha consegnato l'eternità digitale che presto saranno, diciamo, rese disponibili affinché voi capiate che cosa significa farsi il mazzo per tre mesi più vent'anni per capire certe cose e sentirsi fare delle obiezioni di questo tipo, ok? Vorrei anche aprire e chiudere una parentesi in absenzia citando Ariosto, no? Oh gran bontà dei cavalieri antichi, erano rivali, erano di fè diversi e si sentivano degli astri colpi iniqui per tutta la persona ancora dolersi, pur fra Selvio Scur e Caglio Picquin, se in van senza sospetto a versi, ci ho pensato stamattina quando Pier Giorgio mi ha presentato, ora noi, io e Pier Giorgio strutturalmente non abbiamo mai potuto essere rivali solo perché io sono invecchiato molto prima, però sicuramente siamo di fè diversi, nel senso che lui viene da una militanza politica di forte destra e io da una non militanza di forte sinistra, però il problema è che perché Orlando e Ferraù avranno deciso di smettere di duellare e si erano messi in groppo allo stesso cavallo è perché Angelica stava fuggendo e quindi come dire, loro poi se la sarebbero voluta spartire democraticamente, insomma quelli non erano tempi in cui, cioè se la prendeva uno, questo è chiaro, non si parlava ancora, Renato Zero ancora non era apparso sul panorama della letteratura italiana, dobbiamo pensare che dopo le cose si sarebbero messe male ma intanto si sarebbero riprese Angelica e qui il problema è riprendersi la democrazia e di fronte a riprendersi la democrazia bisogna parlare con tutti e nella mia esperienza bisogna purtroppo o per fortuna parlare soprattutto con quelli che pensavamo fossero diversi da noi, io non mi sono mai tanto sentito vicino a persone di forte destra che magari in vita loro hanno anche rivendicato esperienze che considerano il tutto fallimentari, come in questo momento, perché forse in questo momento bisognerebbe capire che il resto d'Europa ragiona così, un cittadino tedesco legittimamente prima è il cittadino tedesco e poi è di sinistra o di destra, tenendo presente che poi ovunque regna il partito unico dell'euro e che queste distinzioni sono estremamente sfumate, tant'è vero che fa parte e credo che Marino e Fabrizio abbiano accennato molto a questa dimensione del cosiddetto fogno europeo, perché fogno voi lo capireste leggendo il libro, insomma perché il sognatore che sogna di più ha anche una S che suona in modo strano, nel bel paese dove il fi fuona, diciamo che l'errore colossale che vi propongono politico è questa idea che adesso va a potere a sinistra e poi noi che siamo da sinistra siamo bravi e rimettiamo le cose a posto, non è così, perché se voi leggete i giornali per esempio tedeschi e potete farlo sui blog come Voci dalla Germania, Voci dall'estero, scoprite che i socialdemocratici tedeschi vogliono garantire le obbligazioni greche prendendosi il loro della banca centrale, scoprite delle raffinatezze o delle feratezze che vanno ben oltre quello che noi riusciamo a percepire. Dante Ariosto, Verlaine, Renato Zero, quindi scatulisce naturalmente un riferimento a Leopardi, no? Passata è la tempesta, odo uccelli far festa e la fassina tornata in sulla via che ripete il suo verso, co-co-pro! Questo sta nel blog ragazzi, leggetelo che è divertente perché poi quando io tolgo il tappo questa massa di disperati che non vedeva allora che qualcuno togliesse il tappo si sfuga e succedono delle cose molto divertenti. Perché mi viene in mente la fassina che tornata in sulla via ripete l'usato verso, oh se poi ci incontriamo ovviamente, questo è detto in amicizia, noi si scherza, va da sé, perché siamo dei buon temponi, perché la prendiamo a ridere avendola anche presa in un altro modo o da un'altra parte. Un euro di spesa pubblica genera un euro di debito ma genera un euro e due o due euro o un euro e sette di reddito può darsi che in condizioni di recessione profonda esattamente come l'austerità è dannosa in termini di finanza pubblica, una minore austerità sia meno dannosa in termini di finanza pubblica. Ma questo non si può fare e allora rimane l'altra fonte di domanda autonoma. Quale? Il reddito degli altri, cioè le esportazioni. Ci siamo? Perfetto. Cioè sterilizzare il saldo di bilancio con delle regole fiscali che ti impongono di tenerlo a zero obbliga in caso di crisi strutturalmente a rivolgersi alla domanda estera come volano per rilanciare l'economia nazionale. Questo implica necessariamente che quando c'è uno shock questo si scarichi sui salari perché tu per intercettare la domanda estera sei costretto a offrire condizioni estremamente competitive e quindi il famoso taglio di salari eccetera eccetera. Il meccanismo è molto semplice, qui basta studiarsi i saldi come nel post della premiata armeria ELA se si capisce subito che se sterilizzi un saldo devi utilizzare l'altro e quindi devi giocare al gioco del mercantilismo, al gioco in cui chi vende è bravo e chi compra è cattivo senza che si capisca come fa a essere bravo uno che senza la cattiveria, anzi diciamo così per simmetria verso il neologismo che ha inventato Cesare oggi o ci ha proposto la cattivitudine degli altri, senza la cattivitudine dei greci la bravitudine dei tedeschi non si sarebbe mai ma potuta manifestare quindi voglio dire questo è talmente ovvio che voi forse ci avete pensato ma nessuno vi ha detto che potevate pensarci e il fatto che sia totalmente ovvio vi fa capire qual è la dimensione assolutamente pervasiva e inquietante dell'ipocrisia nella quale viviamo e questo per quel che riguarda l'analisi della situazione però non so quanto tempo ha adesso il gemello buono no? perché io diciamo nel libro mi sono permesso di così ironizzare, sfottere e provocare un po' diverse persone per esempio e se ne sono accorte per esempio quando parlo del, non so se siete arrivati al punto del medico no? quello era scritto pensando a Gennaro e Gennaro se ne è accorto perché Gennaro era uno di quelli che mi diceva e dopo che si fa e dopo che si fa e dopo che si fa ma io mi sono anche preso molto volentieri del presuntuoso da un politico di non so più quale prima, seconda, terza, quante repubbliche siamo? sì quello forse era della prima e mezza per aver detto in una discussione diciamo circolare via email questa cosa ma a me sembra abbastanza ovvio dopo cioè quello che c'è da fare basta unire i puntini e capovolgere la figura perché quello che è stato fatto finora che non funziona lo sappiamo il problema non è un problema tecnico è un problema di volontà e di capacità politica apro e chiudo una parentesi secondo me al punto in cui siamo arrivati è estremamente difficile e è estremamente utopistico aspettarsi che da questa situazione si esca dicendo la verità la verità la diranno i quattro angioloni della vocalisse dei mercati quando capiranno che questo gioco gli sta facendo perdere più di quanto gli sta facendo guadagnare e allora secondo me quella potrebbe essere come dire potrebbe essere il l'evento che scatena una modifica istituzionale che necessariamente dovrebbe essere quello uno smantellamento di tutta parte del loro zona però questo è solo un educated guess diciamo così come quello di e poi insomma sappiamo che tanto non potrà durare la verità la sapremo abbastanza abbastanza presto allora ragioniamo un attimo su come potrebbe essere un mondo del dopo perché questa è la parte della quale non posso mai ragionare perché anche se vado in università tutti mi dicono ah no ma ci sarebbe l'inflazione ho capito ma se non c'è vabbè non parlo nemmeno con lei il mondo del dopo si potrebbe organizzare se ci fosse una reale volontà di integrazione europea d'accordo se esistesse si sa quello che si dovrebbe fare ma si sa quello che il testo dimostra che lo si sa da un sacco di tempo dal 1957 almeno questa discussione è stata in qualche modo formalizzata disognerebbe per paesi che vogliono essere commercialmente ed economicamente integrati darsi l'obiettivo di crescere insieme mantenendo gli scambi esteri in equilibrio e quindi di converso se sterilizzare per così dire il saldo fiscale ti obbliga a essere in surplus estero viceversa sterilizzare il saldo estero ti permette di essere in deficit fiscale quindi rilanciando in qualche modo la crescita attraverso la domanda interna qui attenzione vorrei chiarire una cosa che non sto propugnando ovviamente l'autarchia dire che la bilancia dei pagamenti dovrebbe essere intorno a zero non significa che debba essere zero meno zero cioè zero importazioni e zero esportazioni potrebbe anche essere mille meno mille 10.000 meno 10.000 poi soprattutto se andremo alla lira scacciavillani ci dice che sarà 449.000 fantastilioni di triliardi di lire meno 449.000 fantastilioni di triliardi di lire ciao fabbio questa è la cosa che tutti gli economisti sapevano che come per esempio luca spiega benissimo nel libro era in qualche modo anche presente nel disegno di breton woods che come il suo libro è una proposta di un tentativo di recuperare quest'idea che il commercio può e deve essere a senso sia equilibrato e in questo contesto quando questa riflessione viene fatta negli anni 50 nel 1957 sei mesi dopo la firma dei trattati di roma dei trattati di roma ladrona che hanno creato le basi per questa Europa molto più ladrona di roma come il libro dimostra grazie anche al contributo di Luciano Barra Caracciolo ecco era abbastanza chiaro che per perseguire questo sviluppo ordinato in cui i paesi commerciano in equilibrio fra loro per cui non si creano quelle crisi di debito estero devastanti che sono quelle che ci stanno schiacciando ci potevano essere diverse strade e non vi voglio rubare la sorpresa perché sarebbe così scorretto da un punto di vista così il colpevole sappiamo chi è ma è abbastanza interessante vedere come ci ha ammazzato che la costruzione dell'eurozona invoca esattamente le due strade che si sapeva sarebbero state sbagliate quelle di replicare un gold standard associato a una camera di compensazione che non compensa che poi è più o meno quello che ci ha fatto vedere oggi Luca e insomma e allora però bisognerebbe ritornare a un atteggiamento di laicità nel considerare il sistema monetario valutario e adottare l'approccio di Meade il quale cita Churchill dicendo lui dice che la democrazia è il peggiore di tutti i regimi di governo ad esclusione di tutti gli altri ecco anche la flessibilità del cambio è il peggiore di tutti i regimi valutari ad esclusione di tutti gli altri quindi l'idea che un percorso di integrazione possa essere e debba essere associato al mantenimento di una flessibilità del cambio fra paesi è un'idea assolutamente vecchia, assolutamente ovvia e che se la si fosse adottata forse avrebbe funzionato. Vedete ora ci spiegano che però non è necessario perché se facciamo più Europa compenseremo questi squilibri. Permettetemi di darvi qualche numero. Quando nel 91 Jeffries, quanto tempo ha il gemello buono, quello accademico per dare qualche numero e far addormentare l'auditorio? Quanto tempo vuoi dare i tuoi amici? Beh io vorrei sentirli parlare ma a dieci minuti me li prendo rapidamente. Tanto monicus et videbitis me ovunque perché mi sta chiamando il mondo dopo che questo libro è uscito quindi vi posso annunciare qui una Perugia, un Parma, un Milano nei prossimi 14 giorni, va bene? Ci siamo? Poi vi posso annunciare anche qualcos'altro ma non ve lo annuncio perché non me va. Allora, sostanzialmente la cosa che forse può essere più importante capire per farsi adesso un giudizio politico che comunque ci serve costruirci, no? Quello che un tecnico può dirvi per aiutare voi, la polis, a fare il suo giudizio è questo chi vi parla di più Europa o mente o è un po' una persona dalla limitata capacità di comprensione che come i lettori del mio blog sanno significa un sesquipetale coglione perché comunque una persona che non conosce l'economia non c'è più Europa in vista per un motivo estremamente semplice. Il più Europa monetaria ci darà aspirina sarà quello che come dicevamo oggi con Claudio ci darà l'aspirina che ci terrà così in vita mentre il cancro insomma più o meno ci corrode e poi alla fine da 150 anni abbiamo una banca centrale unica in Italia non mi risulta che il problema del mezzogiorno sia stato risolto da questa banca centrale unica la mezzogiornificazione del sud Europa è in corso, la BCE non può fare assolutamente nulla per risolvere questo problema tranne andarsene, chiedere a Draghi vuoi andartene? Cioè chiedere a Draghi puoi risolvere il problema? Non mi sembra un'ottima idea, no? Cioè a Roma sappiamo che se chiedete all'oste se il vino è buono difficilmente vi dirà che è cattivo, tanto pagate voi e infatti state pagando. Quindi non esiste un più Europa monetaria più Europa monetaria è un film già visto, non ha funzionato e chi lo propugnava come Modigliani nel 1997 ha ammesso di aver sbagliato come Modigliani nel 2001 e questo chi mi segue lo sa e nel libro è rispiegato. Ma con il più Europa fiscale dai a rire ancora di più perché il più Europa fiscale si basa sull'idea che siccome quando si va in crisi al sud però noi realizziamo dei meccanismi di integrazione fiscale tali per cui il nord aiuta il sud in modo automatico. Se si parla di integrazione fiscale significa che non c'è ogni volta da prendere una decisione, significa che automaticamente c'è qualche meccanismo stabilizzatore nel sistema che trasferisce le risorse da chi sta bene a chi sta male. Questo succede negli Stati Uniti per esempio. Nel 91, ripeto, Sachs e Salei-Martin stiamo parlando top 20 università americana, avevano fatto un po' di conti della serva e avevano visto che negli Stati Uniti il bilancio federale compensa 40 centesimi per ogni shock che fa diminuire di un dollaro il reddito in un singolo Stato. Perché fondamentalmente se li va giù il reddito, paghi meno tasse al bilancio federale, poi magari ti arriva anche un qualche centesimo di sussidio, di integrazione del tuo reddito e quindi come dire, questo smorza le asimmetrie che si creano in caso di una recessione. In Europa, quindi stiamo parlando di compensare il 40% di uno shock di reddito e stiamo parlando di un'Europa dove l'ultimo vertice è saltato su uno 0,01% del PIL europeo che qualcuno voleva aggiungere al bilancio dell'Unione qualcun altro voleva togliere. Prima di arrivare con un bilancio federale a europeo, a una capacità di assorbimento degli shock di quel tipo, ha voglia se ce ne corre e ce ne corre anche per un motivo molto ovvio, che anche qui tutti sanno che il problema è quello e lo sapevano prima, ma non perché gliel'ha detto Sala Martini e Saks, ma perché è ovvio. E allora se non si fanno le cose ovvie c'è un motivo estremamente semplice per il quale non si fanno, perché non si vogliono fare e se chi non le vuole fare, cioè i paesi del nord non le volevano fare quando erano in relativa posizione di debolezza, perché tali erano per esempio dopo l'annessione della Germania Est, tali erano, ma perché dovrebbero farlo adesso che nella logica completamente distorta che ci viene suggerita hanno vinto loro questa guerra economica? Cioè stiamo pensando che ci sia la volontà politica da parte dei vincitori di una guerra, di fare quel gesto di generosità che non hanno fatto quando competevano, non dico ad armi pari, ma su un piede totalmente diverso. E vi voglio anche dire un'altra cosa, che è una mia riflessione originale di persona priva di istinto politico, ma molto incazzata. Ma scusate, facciamo questo esercizio mentale. Immagichiamoci che adesso, improvvisamente, i nostri illuminati governanti decidano di fare ciò che è il giusto, per cui la Merkel apre i cordoni della borsa e viene incontro agli altri paesi europei e poi magari il Mario comincia ad acquistare titoli magari in un modo un po' trasparente, in un modo che non sia visibilmente orientato a condizionare le scelte politiche interne dei paesi, insomma e supponiamo che succeda questo, questo meraviglioso mondo. Il famoso fogno. Benissimo. Ma scusate, di che stiamo parlando? Noi abbiamo distrutto un paese e poi diciamo scusate, abbiamo scherzato, si poteva fare in un modo diverso. E quel paese ha avuto i suoi morti, ha avuto devastazione economica, ha avuto richieste di umilianti. Io credo che sarebbe totalmente immorale un atteggiamento che dicesse dopo che quello che si sarebbe dovuto fare prima si può fare dopo, tanto l'obiettivo è stato raggiunto. O no? Perché a noi della Grecia non ce ne frega niente, ma i prossimi forse sono i francesi, forse siamo noi e se prima ci sbriciolano e poi ci tendono la manina, perché altrimenti è chiaro che per evitare che si raggiunga un punto di rottura politico questa cosa è estremamente grave, è estremamente inaccettabile. Non vi pare? Quindi chi vi dice più Europa, il sogno europeo? Ecco, vi sta parlando di questo. E quindi vi mente e perché vi mente? Ma anche qui la letteratura scientifica ve lo potrebbe dire anche il gemello buono, non è necessario che ve lo dica il gemello cattivo. Una classe politica che va incontro a una bancarotta di qualche tipo, nel senso che comunque avendo propugnato questa unione monetaria, se unione monetaria si sciogliesse sarebbe il fallimento del modello di... evidentemente paga un forte costo. E questi vogliono, questi continuano a mentire perché è l'unico mezzo che hanno per sopravvivere, per perpetuare il proprio potere. Allora, vorrei un attimo raggiungere una sintesi e lasciare spazio veramente a voi. La sintesi è che il testo dice come ci siamo arrivati e ci siamo arrivati attraverso un meccanismo di ciclo sostanzialmente minschiano, di grande euforia iniziale. Quello che ha fregato alla Grecia è stato il fatto di essere diventata credibile, i mercati credevano in lei e dall'alto di una nuvola Giavazzi e Blanchard annuivano come Giove dall'Olimpo dicendo sì è bene che i capitali vadano al sud in quanto essi portano crescita. E poi abbiamo questo. Il meccanismo è spiegato, insomma, è noto, è quello che aveva mandato a gambe per aria Cile, Messico, Thailandia, Filippine, Corea, Argentina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo per la diagnosi. La terapia è incredibile, il grado di disinformazione che c'è in Italia nei media su come si potrebbe uscire dall'euro perché sono state fatte tantissime proposte tecniche più o meno convincenti. Oggi per esempio Gennaro spiegava perché una di queste proposte non gli sembrava convincente, cosa che io ho sempre condiviso, noi viviamo una situazione di democrazia limitata anche perché viviamo nell'illusione che sia necessario creare all'interno di una economia di mercato un quarto potere indipendente da tutti gli altri, che è il cosiddetto potere monetario. Cioè viviamo nell'illusione che l'inflazione si governi governando la moneta e che l'inflazione sia una variabile tecnica, per cui basta mettere lì un Ignazio Visco che fa di fatto la funzione del tecnico della caldaia e questo ci deve rassicurare. Non è così, all'estero la riflessione è molto più critica su questi temi. Allora, diagnosi, lo sappiamo, la terapia si può uscire, è possibile, non sarebbe una catastrofe, ma il mutuo, ma l'inflazione, tutte queste domande che capisco se me le fate voi, non capisco se me le fa un collega perché lui dovrebbe saperlo, hanno risposta nella storia, nella letteratura scientifica e anche nel mio umile contributo, perché semplicemente ho copiato quello che avevano fatto gli altri, che se pensate è una grande slealtà, tutto questo grande successo editoriale per non aver praticamente detto nulla di originale che fa capire che siamo messi molto male qui. E avanti, guardando avanti, un'altra Europa è possibile se si orienta il percorso di sviluppo comune dandosi un obiettivo di sviluppo equilibrato dei saldi esteri, cosa che peraltro dal 2011, cioè a paesi del sud ampiamente sbriciolati, la Commissione europea in osservanza di una precisa statuzione del Trattato di Lisbona ha fatto creando una procedura per gli squilibri macroeconomici che in un modo imperfetto però comunque dice sostanzialmente questo, cioè che il debito estero esiste, è un problema e va osservato e che non c'è solo il debito pubblico brutto e il deficit pubblico improduttivo, va bene, dopo, ovviamente dopo aver annesso e sbriciolato l'economia del sud, mantenendo la flessibilità del cambio, perché fondamentalmente se dovesse mai succedere, cosa che in Europa come sapete non è successa, che qualche paese cerchi di fottere gli altri facendo una strategia di riflazione salariale competitiva, se tu hai la flessibilità del cambio ti puoi difendere, si dispace parabellum, questo è il semplicissimo messaggio che la teoria macroeconomica ci dà, che ci crediate o meno. Come dire, le comodità bisogna usarle, chi ha le comodità e non se ne serve non c'è il confessore che l'assolva, diceva il nonno abruzzese di quella santa che avete conosciuto oggi. La comodità in questo caso è quella di avere un sistema monetario basato sulla circolazione fiduciaria, che quindi permette alle monete di aggiustare i rispettivi rapporti di forza in relazione alla forza delle rispettive economie. Non ha nessun senso cercare di avere una moneta più forte di quello che è l'economia che l'ha adotta, tutte le volte che questo è successo in Italia con quota 90, prima Churchill con il recupero della parità, dell'anteguerra eccetera eccetera, l'economia che l'ha fatta è stato schiacciato dal peso della sua moneta forte e pesante. Questo lo sappiamo, basta trarne le conseguenze, non vi fate prendere in giro, la risposta è dentro di voi ma è giusta. Grazie.